Pescara batte Cerignola 2-0, Colombo recupera Pizzari, squalificati Brosco e Milani, De Marino non è al top per un problema alla caviglia, è così in difesa. Prima da titolare per Alessandro Crescenzi, nel cuore del reparto Boben affianca il grosso, il centrocampo in attacco, nessuna novità rispetto al match di martedì scorso contro il Giuliano. Cerignola, privo di Gonnelli causa squalifica, altresì disponibili Coccia e Gioffre, ex giovanini bianchezzurre. Pazienza conferma il 3-5-2, una sola variante rispetto a sfida col Taranto, il rientro di Bianco in cabina di regia, Langella parte dalla panchina. In attacco il tandem Malcore d'Andrea, questo è lo stricione dei tifosi della Cerignola, erano presenti circa 200, quasi 4.600 gli spettatori presenti, cresce di partita in partita il numero degli sportivi, dei tifosi biancazzurri all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Queste le prime schermaglie del match con la Pescara che affonda sulla sinistra il lato debole della squadra ospite, il cross di Crescenzi che combina bene con De Sogus la parata a terra in uscita del portiere Saracco, classe 94, trascorsi nel Cosenza lo scorso anno, era alla fila di Andrea. Quindi Cuppone, lo scambio, l'invito, il ricamo di Mora per De Sogus in spaccata. Non era facile, la palla termina di pochissimo rispetto al palo sinistro della porta difesa da Saracco. Ci prova dunque De Sogus, il Pescara comincia ad alzare il ritmo delle sue giocate, a muovere velocemente il pallone e crea diverse opportunità. Qui ancora un cross di De Sogus, sbanaccia Saracco, poi Cuppone. Alla fine ci prova anche Mora, la difesa allontana, a fatica la difesa del Cerignola. Continua a insistere il Pescara, cresce di minuto in minuto la formazione di Alberto Colombo. Qui ci prova anche Lescano su cross di Cancellotti, autore ancora una volta di un'ottima partita, la sfera termina a lato. Poi lo scambio tra Aloi e Palmiero. Guardate, un'azione fantastica con la verticalizzazione di Mora per De Sogus, che ha per troppo il compasso con l'interno del piede sinistro a centimetri dal palo. La conclusione di De Sogus, poi Aloi, colpo di testa di Lescano che spreca una clamorosa opportunità. Non inquadra lo specchio della porta l'italo-argentino. Non è da lui, poi il Pescara continua ad attaccare sulla fascia destra. Riesce ad aggirare benissimo la difesa del Cerignola. C'è il grande mestiere di Crescenzi alle sue spalle. Russo, 177 presenze con la maglia del Cerignola. Ingenuo il capitano della formazione pugliese che spinge Crescenzi. Crescenzi che prende posizione. Davvero grande astuzia da parte della classe 91 che oggi tornava a titolare. L'ultimo a titolare col Pescara quattro anni fa a Venezia 0-0. C'era Pilon sul punto di battuta. Lescano che spiazza Saracco. Sono sei in campionato. Dunque Pescara che sblocca la situazione al minuto 40. Nel corso del primo tempo esulta la tifoseria biancazzurra. Lescano portiere da una parte, palla dall'altra. Sesta rete in campionato per il classe 1996. 6 gol e 5 assist. Davvero un grande avvio di stagione per l'attaccante italo-argentino. Per il 10 biancazzurro. Bravo Crescenzi a procurarsi il rigore. Ingenuo Russo, il capitano del Cerignola. Abbiamo già visto le azioni, o meglio le immagini del rigore. Continua a dare indicazioni Colombo. Siamo nel secondo tempo. Il colpo di testa. Poi Blondette rimette il pallone in mezzo. C'è il contatto tra Lescano e Malcore. L'arbitro indica la rimessa dal fondo per il Pescara. Ci sono le proteste della squadra di Michele Pazienza. Rivediamo il pallone rimesso all'interno dell'area piccola proprio da Blondette. Questo contatto che non sembra passibile di calcio o di rigore tra Cuppone e Malcore. Malcore che colpisce di testa. Poi attenzione, Bobben anticipa Malcore. Malcore bravissimo. Soffiare il pallone da tergo. Beh sì, questo è il rigore. Dobbiamo essere onesti. Cancellotti su Malcore. Malcore viene addirittura ammonito e sorride. Se la ride anzi, perché giustamente qui il rigore secondo noi c'è. In ritardo Cancellotti da tergo. L'arbitro addirittura ammonito il centroavanti del Cerignola. Poi il Pescara ancora in attacco con Crescenzi. Che ha rimesso il pallone in mezzo di testa. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Palmiero. Attenzione ora al velo di Malcore. Il destro di D'Andrea. La palla che schigge alla traversa della porta difesa da Pizzari. Quando il Cerignola passa al 4-2-3-1 con l'ingresso in campo di Aschic. E l'uscita di Sens-Mazza. Ma passano soltanto due minuti dalla traversa. Un tocco in via. Un'azione splendida. Crescenzi, velo di De Sogus. Il destro secco di Vergani. Che aveva da poco rilevato, rimpiazzato l'Escano. Dunque, secondo gol in campionato con la maglia della Pescara per Edoardo Vergani. E il minuto 67 di questa partita. Aveva rischiato sulla traversa di D'Andrea il Pescara. Dopo due minuti, una splendida azione corale. Che ha chiamato in causa tutti o quasi i giocatori della squadra di Colombo. E poi l'assist di Crescenzi. Il velo fantastico di De Sogus. Il destro in corsa senza problemi da parte di Vergani. Che mette il pallone all'angolino. Il tunnel poi nel finale di partita di Mora. Ancora tra i migliori della squadra biancazzurra. Il colpo di testa ancora di Vergani su cross di Cancellotti. La palla termina alta. Sfiora la doppietta personale. Edoardo Vergani finisce così 2-0 per i biancazzurri. C'è un ultimo tentativo da parte del Cerignola fuori misura. E questo è il settimo successo in dieci partite all'inizio della stagione. Il quinto clean sheet. Pescara batte Cerignola 2-0. Resta ancora qualche istante prima del triplice fischio del direttore di gara. È finita proprio in questo momento dunque. Pescara 2-0 Cerignola. Zero Pescara che vince la sua terza partita davanti al pubblico amico.